Allora, io mi presento, sono Franco Puppato, nato a Treviso, 7'2'41, sottolineo, è una giovinezza esordiale, mi piace fare il sarto, sono innamorato pazzo della mia professione. Che mi fa sentire? Non un adulto, un emergente. Io sono ancora così. Basta avere amore, basta avere amore e la volontà di conoscere per fare. Ho un debole per questa mia città, oggi dico, mia città, di cui mi fa esprimere la bellezza del bel vestire. E' bila fortuna che mi hanno fatto conoscere questo sommo maestro. Una grande tecnica e un grande, come si dice, proiettore del tempo, nel tempo. Lui vedeva più avanti, lui vedeva più avanti, io lo contasto questo. Ho imparato una tecnica che, fra virgolette, sono l'unico rappresentante rimasto del pianeta a proiettarsi in avanti. Questo è lo stile Goldoni. Con tecnica avanzata, cosa significa? E' una tecnica alla trigonometria, che ho ereditato dal mio sommo maestro. Perché se uno non fa la differenza, lo dirò sempre, non è sarto. Mi dispiace, però è così.